Carlo, ma già finito al lavoro? Sì, sì, grazie alla mia nuova idropulitrice professionale EcoBooster di Karker. EcoBooster? Sì, il rivoluzionario ugello EcoBooster di Karker, l'unico che lava il 50% in più. E così risparmio tempo e fatica. Il 50% in più? Certo! Corri dai rivenditori specializzati e approfitta subito dello speciale prezzo di lancio. Idropulitrici professionali Karker. Potenza e qualità tedesca. www.karker.it